Si parte dalla curva del Tellale che si raggiunge da Rozzo. Poco prima della frazione al Baredo si prende la strada asfaltata che si stacca sulla sinistra, che collega la frazione con il rifugio Campolongo. Il quarto tornante è la curva del Tellale dove si può parcheggiare. Il sentiero Cai 802 inizia su una stradina in leggera salita, direzione E. Si prosegue nel bosco, sempre in leggera salita, si arriva ad un cartello segna via Cai che indica Val dell'Holbach, Altarknotto e Altarburg. Si seguono le indicazioni per Altarknotto. Subito dopo i cartelli segna via la stradina finisce e inizia il sentiero. La salita è più ripida delle precedenti ma dopo lo strappo iniziale diventa più dolce. Si passa fra due grandi faggi e si prosegue su un comodo sentiero che intervalla tratti piani a tratti in una salita più o meno accentuata, sempre nel bosco. Dopo una piccola radura si supera uno strappo piuttosto ripido dove si trova una freccia con indicato Altarburg. Si abbandona a una curva il sentiero principale immettendosi nella valletta con segna via Cai. Si prosegue sempre in salita e sempre nel bosco. Dopo due ripidi strappi la salita diventa più dolce, si fa un tornante e si prosegue su un terreno quasi pianeggiante superato il quale si devia decisamente a sinistra. Si affronta a questo punto un breve strappo in salita, ci si immerge nella faggeta, si arriva a un segna via Cai, a sinistra Altarburg, a destra Altarcnotto. Si prende a sinistra, ancora uno strappo in salita e in breve si arriva alla bella croce posta sulla panoramica cima dell'Altarburg. A ovest il Toraro, l'altopiano dei Fiorentini, il Campo Molon, il Pasubio, Tonezza e la sottostante Valdastico. A nord-ovest il Becco di Filadon, a nord le Dolomiti di Brenta, Luserna e cima Campolongo. Verso est il Monte Grappa, mentre a sud la parte meridionale dell'altopiano dei Sette Comuni. Dall'Altarburg si scende fino al segna via Cai incontrati in salita e questa volta si prende a destra in direzione al Tracnotto. Si rimane sempre nella faggeta, però nel versante ovest, a picco sulla sottostante Valdastico. Il sentiero è ben segnato, ma in alcuni punti è un po' esposto, bisogna fare attenzione in caso di neve e ghiaccio. All'inizio il sentiero è pianeggiante, poi prosegue in salita, non ripida, su un terreno spesso sassoso. Si percorre il trinale o si scende appena sotto. Si arriva ad una bella spianata dove sono presenti segna via Cai e in breve si arriva sopra l'altarcnotto. Volendo si può scendere alla base dell'altarcnotto attraverso una fenditura del terreno recentemente messa in sicurezza dal Cai di Asiago Sette Comuni con la posa in opera di staffa in acciaio. Si consiglia di togliere lo zaino e di rinunciare in caso di pioggia, è solo per escursionisti esperti. L'artarcnotto è formato da un grande masso roccioso poggiante su un piccolo piedistallo anch'esso roccioso. È posto sul filo di cresta che congiunge l'altarburg con il monte Campolungo. Da alcuni studiosi è ritenuto un antico altare druidico, probabilmente il più anticolo dell'altopiano. Ritornati al punto di attacco della fenditura, si prosegue sul sentiero Cai in direzione nord, in salita seguendo le indicazioni Alta Cughe e la Quarta Strada. In breve si arriva a questa tettoia naturale. Poco prima di questo interessante sito si prende a destra il sentiero Cai 802 che in falso piano attraversa una bella faggeta. Attenzione a seguire segna via Cai bianco-rossi in quanto la traccia di sentiero è molto labile. Dopo poche centinaia di metri si arriva alla strada forestale denominata Quarta Strada, all'inizio in salita. Poi prosegue con saliscendi, arrivati a un bivio, si prende decisamente a destra e in discesa fino alla strada asfaltata che collega Rozzo con il rifugio Campolongo, cartelli segna via Cai. Si prende a destra e in discesa in direzione sud, ignorando la strada sterrata a destra. Più avanti si incrocia il sentiero Cai sempre a destra, si attraversa un bosco di abeti, poche decine di metri e si incontra un altro segna via Cai 802. Si continua nel bosco, si intercetta nuovamente la strada asfaltata e in breve si arriva al punto di partenza.